Buongiorno a tutti o bentornati su Cartino Rosa, io sono Mattia Del Giudice ed oggi parliamo di calcio in mercato, ma parliamo dell'ultimo acquisto del Milan che in realtà è già stato ufficializzato settimana scorsa, ma ne parliamo solo oggi, ovvero Yui Hasegawa, la giapponese classe 97 acquistata dalla squadra di Maurizio Gans che arriva direttamente proprio dal Giappone dove giocava con Nippon Beleza, dove si è distinta con le sue capacità, ma ancora di più si è distinta con la nazionale giapponese con tra l'altro un gol agli ultimi mondiali, quelli del 2019 contro l'Olanda, tra l'altro gol che è stato tra i candidati per il premio come miglior gol, il gol più bello di quel mondiale ma adesso inizia la sua prima avventura lontana da casa proprio con la maglia del Milan dove ovviamente si giocherà lo scudetto insieme alla nuova squadra in questo momento in competizione con la Juventus. Milan che quindi fa un grande colpo a mio parere anche in prospettiva perché comunque è una classe 97 ha 24 anni, ha compiuti il giorno del suo arrivo e della sua ufficialità e adesso è pronta a fare la differenza anche con la maglia del club meneghino un colpo che sicuramente si può vedere anche in prospettiva non solo appunto per l'età ma anche per la prossima stagione dove il Milan probabilmente disputerà la Champions League e quindi deve fare anche questi colpi a livello internazionale non può assolutamente accontentarsi di colpi, comunque ottimi per la Serie A comunque l'abbiamo già visto, ha preso Giulia Simic, è arrivata a vero bocchete quindi un mercato, quello rosso-nero, che più per questa stagione sembra già fatto in prospettiva in ottica europea un po' più europea, dove sarà difficilissimo competere, raggiungere anche solo la fase ai gironi però che con un mercato fatto bene e a dovere potrebbe regalare qualche soddisfazione alle rosso-nere ma chi è? Asegawa, insomma, è una giocatrice molto duttile, gioca in varie posizioni, gioca come mezzala o come esterno a sinistra ha fatto anche la trequartista ma potrebbe fare addirittura la seconda punta insomma, Gans può davvero utilizzarla dove vuole, come meglio crede lui e come gli serve alla fine poi tra l'altro è l'acquisto che forse mancava al Milan perché dalla parte di Linda Tucceri a sinistra mancava in effetti una vera e propria alternativa al terzino della Nazionale Azzurra e del Milan quindi una giocatrice che serviva alla squadra di Gans e che può dare anche più soluzioni durante anche il corso di una partita perché vedremo un po' dove raschiererà poi l'allenatore del Milan perché appunto potendo giocare in più ruoli potremo vederla in più modi o mezzala a centrocampo, magari al fianco di Fifi con Bokete che si spinge più avanti come trequartista oppure potrebbe fare lei in alcune occasioni proprio giocare nella trequarti oppure proprio prendere il posto da ala di Tucceri se no passare appunto al centrocampo a quattro e mettersi più a sinistra con al centro Simic e Fifi insomma tantissime le alternative che dà questa giocatrice a Maurizio e Gans molto forte tecnicamente e un'ottima visione di gioco offensiva quindi servirà magari a dare anche quell'impronta un po' più cinica e fredda in attacco alla squadra vedremo perché comunque è un lavoro che magari adesso dovrebbe fare Christy Grimshaw ma che non riesce a fare al cento per cento anzi spesso fa prestazioni deludenti mentre invece la giapponese può essere un'ottima alternativa anche a Grimshaw per riuscire a concretizzare magari di più qualche occasione che spesso Nina spreca, sottoporta un colpo quindi internazionale secondo me in vista soprattutto della prossima stagione dove si vorrà allungare ulteriormente la rosa e alzare allo stesso tempo la qualità quindi senza perdere comunque giocatrici importanti comunque molti dicono è arrivata anche lei e adesso cosa succederà? magari a tante capanchinare perché comunque c'è Deborah Rinaldi che si si è disperso in panchina Miriallongo, Serra Tamborini dovrebbero comunque rimanere tutte almeno questa sessione comunque di mercato che ormai comunque è conclusa quindi appunto sono rimaste tutte ma dovrebbero continuare a rimanere anche per la prossima stagione perché il Milan non vuole assolutamente perdere comunque in poedine importanti l'intenzione della società meneghina in questo momento è costruire una squadra forte che duri un po' come la Juventus la Juventus in questo momento ha fatto tanti piccoli acquisti è vero ogni anno arriva quel innesto in più per alzare il livello europeo il Milan comunque è partito un anno dietro e vuole assolutamente recuperare il gap con le bianconere a Segava vedremo se sarà anche il tassello giusto per contribuire appunto all'alzamento del livello della squadra ma ci vedrà solo il campo vedremo se sarà già convocata contro il San Marino nella gara del prossimo weekend o più avanti magari per il ritorno di Coppedaglia contro il Sassuolo